Naturalmente il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa proposta della Giunta in merito all'adeguamento della normativa al quadro regionale europeo sulle canne fumarie a carboni attivi. Quello che avevamo consegnato poi all'assessorato erano delle osservazioni in merito a un regolamento che è vecchissimo, del 39, se non sbaglio aggiornato nel 42 forse, 45, 42. Contiene ancora termini che ormai hanno abbandonato il lessico anche gergale romano e contiene sicuramente riferimenti a insediamenti nel centro storico come le stalle appunto quando c'erano più animali che trazione automatica, insomma motore. e quindi probabilmente poi ci sarà necessità di un'ulteriore revisione un po' più in là, sempre con la cooperazione tra le commissioni competenti e l'assessorato competenti. Grazie.